Termoli brutto ma vincente. Al Cannarsa contro il Celano c'è una squadra nuova, nuova negli uomini per 5 undicesimi e nuova nel gioco, più ordinato e meno offensivo rispetto alle prime uscite. Fuori Bonanno, Caravaglio, Corazzini e Miani, in campo Panariello, Falco, D'Angelo e Felici. Patania sostituisce tra i pali in Bimbo, che in settimana ha riportato la frattura della mano e dovrà stare fuori per almeno un mese. Gli ospiti si affidano invece a Lazzarini e Granaiola. Arbitra la signora Maria Marotta di Sapri. Primo tempo tra gli sbadigli. Il Termoli parte subito forte ma vicino al gol va solo da calcio d'angolo senza peraltro essere fortunato. Al tredicesimo gol annullato agli atriadici. I giallorossi partono in contropiede. Palla subito a D'Angelo che prova a distreggiarsi ma poi serve inspiegabilmente largo a sinistra. Il cross arriva quando la palla ha già superato la linea di fondo, rendendo inutile l'incornata dello stesso attaccante. Il Termoli dà l'impressione di poter sfondare in ogni momento ma di fatto non lo fa e la partita sfila senza emozioni. Qualche mugugno in tribuna per il possesso prolungato e i troppi leziosismi dei giocatori giallorossi che però hanno il merito di non concedere praticamente nulla all'avversario. L'unico pericolo arriva al trentesimo con una palla filtrante in aria ma Viteritti è bravo a fare la diagonale e chiudere in angolo. Patania non tocca palla per tutto il primo tempo mentre la prima vera parata del numero uno del Celano arriva allo scadere con una spettacolare conclusione da fuori che chiama Nutricato all'intervento. Bartolini è solo e potrebbe approfittarne per il tapin ma la sua schiacciata è troppo debole. La ripresa sembra cominciare sotto migliori auspici. Cianni calcia una punizione dal limite. Nel caso generale alla conclusione va Bartolini ma la palla è fuori. Ci sarebbe una deviazione e vede fuori gioco. Al settimo minuto Bartolini prova l'azione personale sulla fascia sinistra. Arrivato sul fondo mette palla al centro per D'Angelo che non può far altro che servire all'indietro. Cianni conclude senza inquadrare lo specchio. Ma il Termoli o è troppo spregiudicato e quindi segna e subisce tanti gol o come quest'oggi è troppo ordinato e quindi non crea abbastanza occasioni per vincere la partita. Giacomarro se ne accorge e preferisce rischiare. Fuori Panarillo e Falco dentro due giocatori più offensivi Caravaglio e Miani. Il Termoli si sbilancia e il Celano ne approfitta. Al sedicesimo Patania si esibisce in una splendida parata plastica. I tifosi applaudono ma il gioco era comunque fermo. Al ventitresimo si rivede il Termoli. Palla lunga per Bartolini che scatta sul filo del fuorigioco. Lo stop non è perfetto e la conclusione è troppo debole. La sensazione è che solo un episodio possa decidere la gara e l'episodio si verifica al trentesimo. D'Angelo viene atterrato in aria. L'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Gli ospiti protestano ma Bartolini è già sul dischetto. Il suo tiro è debole ma sufficiente a spiazzare Nutricato per l'1-0. Grande l'euforia dei tifosi che finalmente possono gioire per un Termoli vincente anche se non spettacolare. Il gol galvanizza Bartolini, forse il migliore in campo, che ridicolizza la retroguardia del Celano aggirando prima un difensore e poi mandando a vuoto altri due giocatori. La sua conclusione però non ha fortuna. Al quarantunesimo il Termoli ha l'occasione per chiudere la partita. Cianni batte una punizione sull'auto di sinistra. La palla è perfetta per Miani, la cui incornata però è troppo centrale. Il portiere si trova la palla tra le mani ed è bravo a respingere. Nel primo dei quattro minuti di recupero però il Termoli rischia di fare la frittata. Un cross dalla sinistra respinto al limite dell'aria, dove si fa trovare pronto Salatiello per la girata. La palla si stampa sulla traversa, tra i sospiri di sollievo della tifoseria giallorossa. Una partita brutta, senza grosse emozioni, ma se una delle due squadre doveva vincere, questa è proprio il Termoli. Una vittoria sofferta, ma sempre di vittoria si tratta.